Effetto Oscar, la forma dell'acqua, torna primo ai box office italiani nella settimana che va dall'8 all'11 marzo 2018, il film incassa 1,4 milioni di euro portando il suo totale a 6,5 milioni di euro incassati in 4 settimane di programmazione. Black Panther, incassa 6,6 milioni di euro, a casa tutti bene, arriva ad 8,6 milioni di euro incassati in 4 settimane. La forma dell'acqua, di Guillermo del Toro rimbalza incredibilmente in prima posizione ai box office italiani dell'ultima settimana, complice 4 Oscar 2018, tra cui miglior film e miglior regista. Nella settimana che va dall'8 all'11 marzo 2018, il film incassa 1,4 milioni di euro portando il suo totale a 6,5 milioni di euro incassati in 4 settimane di programmazione. In seconda posizione si conferma il buon risultato di, Red Sparrow, che questa volta non riesce a superare il milione di euro di incassi, 830 mila euro, 2,3 milioni in due settimane di programmazione. A terzo posto l'esordio di, Il giustiziere della notte, criticato remake del cult con Charles Bronson, qui diretto da Eli Roth con Bruce Willis e protagonista, 729 mila euro. Black Panther supera i 6 milioni di euro, Black Panther, ultimo cinecomic dedicato al supereroe del regno di Wakanda, ha toccato quota 6,6 milioni di euro incassati in 4 settimane di programmazione. Questa settimana scivola in nona posizione, incassando 429 mila euro. Puoi baciare lo sposo, film con Salvatore Esposite e Diego Avantuono, è quarto, 661 mila euro e 1,8 milioni in due settimane di programmazione. Quinta posizione per, Il filo nascosto, 542 mila euro e 3 milioni di euro in totale, dopo tre settimane di programmazione. Il film d'animazione, è arrivato il broncio, realizza 493 mila euro, incassando in totale 1,1 milioni di euro. A casa tutti bene, tocca 8,6 milioni di euro straordinari gli incassi di A casa tutti bene, l'ultimo film di Gabriele Muccino, 492 mila euro nel weekend, totale di 8,6 milioni di euro dopo quattro settimane sul grande schermo. Lady Bird resta stabile all'ottavo posto, incassando 444 mila euro e portando gli incassi, dopo due settimane di programmazione a 1,1 milioni di euro. Belle Sebastian 3 scivola al decimo posto, 396 mila euro e 2,4 milioni di euro in tre settimane.